E' un consigliere comunale e delegato della Roma Capitale ai rapporti con le istituzioni europee e i cittadini neocomunitari. Onorevole, che cosa ci puoi raccontare in termini di iniziative concretizzate in riferimento alla nostra comunità? Innanzitutto è un piacere per me essere ospite nei vostri studi, quindi auguri a Roma e TTV che nasce da poco, ma mi dicono già con ottimi e grandi risultati, quindi veramente in bocca al lupo di cuore ci tenevo a farveli. Parliamo di comunità romena e di Roma Capitale. Innanzitutto la prima cosa che è stata fatta sinceramente era costruire un contatto e un rapporto tra l'amministrazione e la comunità romena, perché ciò che veniva lamentato in passato da tanti connazionali romeni era di non avere un canale diretto, una porta aperta, un punto di riferimento, quindi c'era un distacco molto netto. Oggi fortunatamente possiamo dire dopo quattro anni e mezzo che siamo arrivati a parlarci, siamo arrivati a conoscerci, siamo arrivati ad approfondire alcuni temi, quindi abbiamo abbattuto quantomeno tra l'amministrazione e la comunità romena un muro di diffidenza molto spesso immotivato, che però aveva condizionato tantissimo i rapporti, quindi è stata una scommessa della nostra amministrazione il fatto che abbia ricevuto dal sindaco una delega per i cittadini comunitari, quindi non solamente per i cittadini romeni, significa tutti i paesi entrati recentemente nell'Unione Europea, perché abbiamo pensato, abbiamo ritenuto opportuno accompagnarli in un percorso di integrazione, perché sono rimasti un po' in una fascia di mezzo, nel senso non sono più extracomunitari, quindi anche in termini di stato giuridico, di diritti, di riconoscimento, di documenti, sono cittadini europei, però di fatto ancora vivono e vivevano una situazione ai limiti, ancora molto più vicina all'extracomunitario che non al cittadino europeo. Cittadino europeo significa cittadino italiano, cittadino romano, stessi diritti, stessi requisiti, ora diretti a 38 prevede alcune cose, ma sappiamo che il 99,9% della comunità romena risponde a quei requisiti che devono essere dichiarati e che devono possedere per poter risiedere nella nostra città. I progetti sono stati innanzitutto partecipare a tutti gli eventi della comunità, quindi noi siamo stati presenti, io personalmente, in questo quattro anni e mezzo a tutti gli appuntamenti delle associazioni, siano essi culturali, sociali, di approfondimento, li abbiamo parlocinati, li abbiamo sostenuti, perché era importante fargli capire che noi ci siamo e che volevamo essere al loro fianco, e non in maniera strumentale, questo va detto, quindi non è un rapporto che nasce oggi perché tra qualche mese accade qualche cosa, è un rapporto che nasce da quattro anni e mezzo e è stata una scelta, anche difficile, perché, soprattutto per un'amministrazione, ovviamente targata centrodestra, sappiamo il sindaco Le Manno, io stesso, veniamo da quell'orientamento politico, si poteva pensare che invece da parte nostra ci sarebbe stata una chiusura ancora più netta, fortunatamente, ce lo dice la comunità, ce lo dice anche in molti termini anche l'ambasciato, per cui abbiamo stabilito un canale preferenziale, sono stati sorpresi in positivo dall'apertura che noi abbiamo avuto, ma apertura che era dovuta a una constatazione dei fatti molto chiara, tutto ciò che veniva detto esageratamente sui media, per fare notizia, per fare scalpore, riferiti ma anche in maniera molto accanita, in maniera anche molto cattiva, talvolta stravolgendo la realtà sulla comunità romena, era nostro impegno a battere quel luogo comune. Noi sappiamo che tantissima gente, tantissime persone che vengono da Romania, sono persone oneste, lo ripeto, la stragrande maggioranza lavorano, sono qui da anni, qui per molti sono nati i loro figli, oppure i loro figli li hanno raggiunti, sono persone inserite nel nostro tessuto lavorativo, nel nostro tessuto sociale, quindi non capivamo perché a fronte di poche persone che commettono, commetteranno ancora perché è naturale, ci saranno dei reati, ma commetteranno reati i cittadini romeni quanto li continuano a commettere i cittadini italiani, piuttosto che algerini, marocchini o francesi, perché mi ha detto che un francese che sta a Roma non possa commettere un reato, quindi è un fatto in sé, questo fa parte della storia di una grande città come Roma, ma di un grande paese, di una grande pietropria dove un fatto delinquenziale lo può commettere chiunque, a prescindere dalla nazionalità, quindi non può essere la sicurezza o il reato attaccato come una pecetta su base etnica. Abbiamo assistito in effetti a una specie di esasperazione della nazionalità romena, soprattutto per quanto riguarda la criminalità, questo è avvenuto perché, appunto come diceva lei, per creare audience, non è stato molto corretto nei nostri confronti. Vedi, è stato fatto più che per creare audience, diciamo, io prima parlavo di sfortuna, poi non è sfortuna, però ci sono stati alcuni fatti particolarmente gravi che hanno colpito la città di Roma. La sfortuna ha voluto che fosse... Era un contesto particolare, stavamo anche in campagna elettorale, quindi... Sicuramente quello è stato uno strumento molto potente. Parlo di sfortuna, in cui il periodo, il momento, il reato in sé, quello che è accaduto, c'è la sfortuna ha voluto che a commettere il reato fosse stato un delinquente romeno, ma, cioè, dichiettiamolo come delinquente romeno, non come romeno, perché c'è un delinquente, quello era e quello è, è stato preso, è stato condannato, punto. Anzi, abbiamo poi collaborato con l'autorità della Romania, c'è tutta la fase processuale, quindi ci sono stati contatti con la polizia della Romania che ha mandato qui degli agenti anche per supportarci in termini anche di comprensione della lingua, perché poi non era anche facile. Quindi abbiamo poi da quel fatto, purtroppo, parliamo magari dello specifico dell'omicidio della signora Reggiani, che in quel caso colpì tantissimo, e lì ci fu veramente un'escalation di accuse, di etichette, venne acceso un riflettore sulla comunità romena veramente esagerato, quindi oggi... Di maniera negativa, poi, generalizzata? Molto generalizzata, e quindi da quel momento in poi, qualsiasi cosa accade, se la commette il romeno, non sia perché c'è un'enfasi particolare, cioè se la commette un altro cittadino straniero, passa come qualcosa comune, se lo commette il romeno, eccola, i romeni. No, innanzitutto parliamo di numeri, questo è un dato statistico che è brutto farlo, ma magari può anche servire ai cittadini, non solamente romeni, ma romani, a capire quando parliamo di atti delinquenziali. La comunità romena, tra dati ufficiali e ufficiosi, diciamo che a Roma sono 300 e 150 mila persone, così raccogliamo i dati sia del Comune di Roma Capitale che dell'Istat. Dell'Istat, certo. delinquere del 40-50%, però non vengono additati come un problema di allarme sociale. Diciamo che l'abbattimento delle frontiere, l'indicazione dell'Unione Europea ha ovviamente portato un numero maggiore di cittadini romeni a venire a Roma e in Italia, in Italia sono circa 1 milione e 200 mila, quindi posso capire che anche i numeri inizialmente hanno spaventato, ma inizialmente, cioè adesso questo è un dato di fatto dove noi abbiamo scelto di essere Unione Europea, cioè a Roma vengono firmati i trattati in cui è nata l'Unione, quindi a maggior ragione noi dovremmo avere una propunzione proprio all'apertura verso gli altri cittadini. E Roma poi per storia sua personale, sono 2 mila anni di storia che Roma è città universale, città di accoglienza, città di incontro. Qui a Roma abbiamo presenti quasi tutte le comunità provenienti da qualsiasi parte del mondo, qui a Roma si incontrano le principali regioni monoteisti, abbiamo la più grande moschea d'Europa, la più vecchia sinagoga d'Europa con la più antica comunità ebraica, è la capitale del cristianesimo, cioè se non è Roma la città da cui parte un messaggio per il dialogo e per l'integrazione, non so immaginare quale altra sia. Quindi per noi è stata una scelta chiara, netta, di volerci mettere accanto alla comunità romena proprio per abbattere questi luoghi comuni, lo abbiamo fatto già con una presenza, in ogni evento noi ci siamo, ci mettiamo la faccia e dimostriamo che accompagniamo la comunità verso un percorso di integrazione. Prima non veniva fatto, non ci interessa, vogliamo guardare avanti e non è passato, quindi la scommessa è arrivare da qui a qualche anno a non avere proprio più questa distinzione, a non avere più rimarcare questa differenza, a non avere più sottolineare questo aspetto, ancora lo dobbiamo fare, c'è ancora molto da fare, questo percorso è partito, siamo a metà, possiamo dire che la percezione comincia a cambiare, vedo anche i rapporti comunque sono diversi, non c'è più quel rapporto teso, magari prevenuto da parte dei cittadini romani nei confronti di alcuni cittadini romeni, questo sta cambiando. Poi io non vorrei offendere nessuno, però la distinzione me la fanno i cittadini romeni stessi, ecco distinguiamo anche il cittadino romano dal cittadino rom. Questo è un tasto dolente, è un tasto molto delicato, magari possiamo affrontare in un altro momento. Però molto spesso si generalizza, molto spesso c'è qualcuno che identifica il campo nomadi con i cittadini romeni. Ecco, anche questa spiegazione va fatta, i rom hanno la nazionalità romena, ma hanno per cultura, per tradizione, un modo di vivere completamente diverso dal cittadino romano che oggi sta qui, da vent'anni il figlio è nato, studia a Roma, magari si è anche aperto un'impresa edile, in alcuni casi danno anche lavoro a cittadini italiani, perché abbiamo anche questi esempi, e quindi capiamo che è un percorso completamente diverso. Però l'accostamento molto spesso genera anche quel concetto di... E questo è avvenuto sempre per colpa del caso Mailat? Anche sì, perché era un cittadino, ovviamente di nazionale romena, che viveva in un campo abusivo, tra l'altro neanche autorizzato, lì in prossimità della stazione ferroviaria, e quindi la gestione del Stato, cioè romo uguale romeno, che se anche sulla carta d'identità c'è scritto così, ma stiamo parlando di proprio due modi diversi di concepire l'integrazione, la relazione con la città o con il paese dove si decide, dove si vuole, si sceglie di vivere, quindi città romeno che è venuto a Roma, ha fatto una scelta completamente diversa dal rom che è venuto a Roma, cioè questo va detto, non è detto che uno debba escludere l'altro, però stiamo parlando di due percorsi che se messi insieme rischiano anche lì di generare un cortocircuito di, purtroppo, luoghi comuni e pregiudizi che non aiuta sicuramente questo cammino. Per tornare invece a parlare di iniziative concretizzate, che cosa ci può dire, insomma, riguardante a quello che avete fatto effettivamente per la nostra comunità? Allora, ci sono alcuni progetti che noi abbiamo fatto a prescindere, ovviamente la comunità romena è la principale beneficiaria proprio in termini di numeri, però c'è il progetto Roxanne che aiuta le ragazze ad uscire dalla tratta della prostituzione. Io sono contentissimo che negli ultimi mesi moltissime ragazze hanno cominciato a collaborare, stanno scendo fuori anche da quel clima di terrore e di porra perché molte sono state portate qui con la scusa di venire a lavorare magari per fare... Di che anno è questo progetto? Il progetto Roxanne sta in piedi già da tre anni, l'abbiamo rifinanziato la settimana scorsa in assestamento di bilancio con 300 mila euro, quindi anche investimenti importanti che fa l'amministrazione, però ci crediamo su questo perché noi sappiamo che moltissime ragazze, anche lì si dice, moltissime prostitute che stanno in strada sono romene, però andiamo a vedere i percorsi e come sono arrivate queste ragazze sulla strada, molte sono arrivate con l'inganno di andare a lavorare dentro un call center o magari di andare a lavorare per fare le hostess in alcune società per congressi e convegni se sono delle belle ragazze, queste sono invece ritrovate per strada, sequestrate con un clima di intimidazione loro personale e dei familiari che sono rimasti in Romania, perché parliamo di organizzazioni criminali che hanno anche la possibilità di rivalza o comunque sia di poter fare qualcosa ai parenti che sono rimasti in Romania, quindi queste ragazze vivono sfruttate e nel terrone. Alcune stanno cominciando a collaborare proprio grazie al progetto Roxanne che è fatto anche in collaborazione con le forze dell'ordine, la ragazza che decide di rinunciare esce fuori da quel percorso, gli viene data un'altra identità, viene avviata in un percorso lavorativo e quindi subentra anche un discorso di protezione. Grazie a quello negli ultimi mesi noi abbiamo sgominato diverse organizzazioni criminali di cittadini, non solo romeni, perché poi non è che solo romeni usano questo sistema della tratta, c'erano romeni, c'erano dentro albanesi, montenegrini, moldavi, insomma italiani, alla fine la criminalità anche quella quando gesti questi mercati si organizza e l'equilibrio viene trovato tranquillamente, ognuno ha la sua quota parte di gestione del mercato criminale e quindi abbiamo anche portato via tante ragazze da quella brutta situazione e quindi il progetto Roxanne va avanti. Io personalmente con l'ufficio Europa abbiamo fatto un progetto chiamato Romani d'Europa e già di per sé il titolo fa capire di cosa parlavamo, abbiamo preso 10 testimonial, cittadini comunitari, su 10 i due erano romeni, voi c'erano uno in più perché giustamente rispettava i numeri, la proporzione, quindi c'erano esperienze di due posti connazionali romeni che hanno raccontato la loro storia, di perché sono venuti in Italia e a Roma, qual è stato il loro percorso di vita, quali sono le difficoltà che hanno incontrato e oggi che cosa fanno. E quindi c'è l'architetto bulgaro che è venuta dalla Bulgaria e oggi è uno degli architetti più stimati a Roma, c'è il prete lituano, Bogdan che è un ragazzo romeno che è venuto e oggi ha una macelleria, un ristorante e una discoteca, quando è venuto non faceva nulla, insomma 10 esperienze positive, abbiamo detto cominciamo ad invertire la rotta, perché raccontare solamente gli esempi negativi, perché fare in modo che la stampa pare solamente questo, raccontiamo noi 10 testimonial che poi rappresentano la stragrande maggioranza delle persone. E questo progetto non solo è stato messo su internet, ma è stato esposto con una mostra fotografica che raccontava le esperienze di queste persone all'interno delle metropolitane di Roma, a Piazza di Spagna e alla stazione della Lagnina, quindi una stazione centrale e una stazione periferica, perché la metropolitana è il luogo dove si incontrano tutti, indipendentemente e indistintamente dal centro sociale, quindi ci passa l'avvocato, il professionista, così come l'impiegato, così come l'operario, così come l'abbatante e tutti hanno potuto vedere e leggere le esperienze di questo progetto. Mi ha fatto particolarmente piacere che l'abbia ripreso sul proposito National Geographic, perché è stato forse a Roma per la prima volta proprio un cambio di tendenza, cioè cominciamo noi a controinformare la città con esperienze positive. Lo vorremmo ripetere, fondi permettendo, perché purtroppo queste cose sono belle, però hanno sempre un costo, però ne vale la pena farle, vorremmo riproporre una seconda edizione di Romani Europa parlando delle seconde generazioni, quindi c'è ragazzi che sono nati magari qui a Roma, che sono tutti giovanissimi a Roma con i propri genitori, qual è il percorso che loro stanno intraprendendo, tra l'altro vorremmo anche puntarlo su, dei ragazzi hanno dato affermazione magari nel mondo dello spettacolo, quindi che si sono particolarmente distinti, sappiamo che ci sono, credo una campionessa olimpionica molto giovane, non so se faccia Fioretto o ginnastica artistica, che nessuno sottolinea mai, è nata in Italia ma i genitori sono romeni, quindi lei concorre con la maglia e il tricolore italiano e i suoi genitori sono romenici, quindi vorremmo raccontare queste esperienze per far capire che dopo l'esperienza dei genitori c'è comunque un passaggio di testimone e i loro figli stanno continuando questa esperienza di integrazione e di affermazione della città di Roma. Lei come la pensa per quanto riguarda la cittadinanza data a queste seconde generazioni, ai bambini nati qui? Allora per quanto riguarda i cittadini romeni il passaggio è semplicissimo, essendo cittadini europei è molto più semplice, c'è un dibattito aperto sui cittadini ovviamente extracomunitari, c'è figli appunto di persone che ancora oggi hanno permesso di soggiorno, se è giusto per i romeni, quindi è diverso, molto spesso si tende a generalizzare anche lì e a confondere i due argomenti. Un conto è ragionare se la cittadinanza può essere concessa ai figli di cittadini europei e quindi comunitari nati a Roma, quindi se in quel caso possono scegliere i genitori se mantenere la cittadinanza d'origine, quindi una madre e un padre romeno devono poter decidere se... L'una non esclude l'altra però. No, infatti per la comunità romena e per gli altri cittadini europei il problema non si pone, si pone il problema su altre comunità, cioè se è giusto concedere al figlio di un cittadino bengalese che nasce a Roma direttamente la cittadinanza italiana. Questo è un dibattito aperto dove ovviamente i pensieri sono molti, però io mi interrogo sul fatto se sia giusto o meno attribuire la cittadinanza a chi temporaneamente sta nel nostro paese, perché lo dice il permesso di soggiorno, il permesso di soggiorno è un permesso temporaneo, quindi noi potremmo avere quei genitori che in un determinato momento della vita potrebbero tornare in patria o potrebbero decidere di rimanere. Allora che facciamo? Decidiamo noi a prescindere che... Nato in questo... Alcuni genitori non vogliono per esempio, perché noi facciamo questo discorso senza sentire magari poi i cittadini stranieri. Cioè alcuni, magari penso a un cinese piuttosto a me che magari non vogliono che il figlio prenda la cittadinanza italiana perché lo rivendicano l'orgoglio che il figlio possa avere la cittadinanza del paese di origine. Allora possiamo abbreviare il percorso, invece di astendere 18 anni potremmo pensare di determinare questo passaggio, ma magari in una fase molto importante della crescita di un ragazzo, che può essere a 12-13 anni, il momento in cui c'è anche il passaggio al secondo livello di istruzione, comincia ad essere un passaggio anche diverso di relazione con i propri coetanei, quindi perché se sceglie di diventare cittadino italiano deve ancora vivere fino a 18 anni con questa storia che magari qualcuno dice ancora che non è italiano, è un dibattito aperto dove ci dovrebbe confrontare seriamente e in questo è veramente uno dei pochi casi in cui andrebbero messe da parte le appartenenze politiche, perché se questo diventa un dibattito in cui ognuno politicamente tenta di dire la sua e di imporla all'altro, rimarrà così per sempre questa storia, non se ne uscirà. Quindi analizzando... Sono solo e chi ci rimette sono appunto le seconde... Appunto, bisogna avere in questo caso la serietà, la maturità e anche il senso di responsabilità da parte della politica di togliere veramente l'aspetto politico da questo dibattito e ragionare seriamente sulla realtà, cioè quindi fare una fotografia della realtà, parlare con i cittadini stranieri e con le comunità, quindi per chiedere anche a loro che cosa vogliono se veramente c'è questa esigenza così marcata. Talvolta ho riscontrato che non è neanche così, perché le dicevo, alcuni vogliono che i figli mantengano la nazionalità del padre e quindi dei genitori, che è quello che prevede attualmente la nuova, perché loro, anche se sono qui come ospiti del paese, ospiti dell'Italia, vogliono che i loro figli mantengano questa nazionalità. Alcuni lo propongono più per convenienza, perché dicono se mio figlio acquisisse subito la nazionale italiana avrebbe meno problemi, sarebbe subito città italiano, quindi in un'ottica di status giuridico per lui cambierebbe molto. Non solo, pensiamola anche in termini di identità riguardanti a questi ragazzi, no? Cioè un bambino nato è cresciuto a tutti gli effetti italiano qui, però non ha una cittadinanza, non ha gli stessi diritti di un cittadino italiano, di un ragazzo italiano. Gli stessi diritti no, perché comunque la nostra normativa, nessun aspetto fa distinzione tra il cittadino italiano e il cittadino italiano, soprattutto poi sui minori, hanno il diritto all'istruzione così come ce l'hanno i bambini italiani. I più grandi hanno il diritto a partecipare a concorsi pubblici così come hanno il diritto italiano, in realtà è che c'è un concorso annullato, cioè un cittadino, se non ricordo male, marocchino, fece un ricorso al TAR per un concorso fatto a Milano per l'azienda del trasporto pubblico, perché nel concorso non era prevista la possibilità che potesse partecipare un cittadino straniero, cioè il requisito era cittadino italiano, questa persona ha fatto ricorso, il TAR gli ha dato ragione, lui è stato ammesso al concorso e credo sia stato anche assunto. Quindi ogni volta bisogna ricorrere al TAR? No, fu sbagliato il bando del comune di Milano, perché non ci può essere, se un cittadino regolarmente residente in Italia, con regolare permesso di soggiorno, parliamo per gli ex comunitari, ovviamente questa cosa vale che per i comunitari, non può esserci distinzione per la partecipazione ad un concorso pubblico e questo va anche per la scuola, anzi in alcuni casi, nella scuola soprattutto primaria, parliamo dell'asilo o della scuola materna, i figli di cittadini immigrati hanno un canale preferenziale perché per loro come punteggio vale anche la spinta ad una maggiore integrazione, quindi hanno un punteggio maggiore perché ovviamente gli si dà una mano ad entrare subito nel nostro sistema scolastico perché questo può essere il maggior elemento di integrazione interagendo appunto con i propri guadagni e già con il mondo dell'istruzione italiana, quindi non c'è distinzione su quello, c'è magari poi su altre cose, io lo dico, è anche un fatto di non sentirsi dire talvolta, l'isposciamo sempre nel tema del rispetto e quindi dell'interazione e del razzismo, non sentirsi dire ma tu che vuoi sei cittadino straniero, cioè è più una voglia di togliersi di dosso una pecetta che giustamente viene attaccata perché in termini giuridici alla fine si può cambiare se si vogliono candidare o meno, può cambiare dal punto di vista di partecipazione alla vita politica amministrativa della città, ma in termini giuridici non c'è moltissima differenza, la nostra legislazione italiana è veramente una legislazione che tutela tantissimo, c'è l'immigrato, c'è in termini di diritti, di accoglienza e di servizi, noi spendiamo come Roma Capitale tantissimi soldi nel comparto dei servizi sociali proprio per favorire l'immigrazione ma soprattutto per persone che hanno problemi sociali e che molto spesso sono cittadini immigrati, quindi è un dibattito aperto che andrebbe veramente visto, andrebbe ragionato fuori, non sotto riflettori, non in tv perché poi quando si fanno questi dibattiti all'iello mediatico sappiamo che ognuno tenta di conquistare una fetta di elettorato o meno, quindi si accendono anche i doni, c'è persone che hanno a cuore questo tema, dovrebbero chiudersi in una stanza, fotografare la realtà e capire cosa è meglio per l'Italia e per i cittadini che hanno deciso di venire a vivere in Italia. Mi parlava prima di queste iniziative a cui anche lei ha partecipato, per quanto riguarda le iscrizioni sulle liste elettorali da parte dei cittadini romeni? Allora, i cittadini europei residenti in Italia hanno il diritto di poter partecipare attivamente all'elezione diretta del sindaco, dell'assemblea capitolina, dei presidenti di municipio e dei consigli municipali, per farlo devono iscriversi alle liste elettorali del Comune di Roma, per partecipazione attiva intendo che si possono candidare e possono votare, quindi godono degli stessi diritti di un cittadino romano. I dati del 2008 ci dicono che solamente 600 persone o poco più di cittadinanza romena si sono iscritti alle liste elettorali, quindi nulla rispetto ai numeri che abbiamo citato prima, quindi significa che non c'è questo sentimento di partecipazione. Allora lì c'è un concorso di colpa, una parte può essere di disinteresse da parte della stragrande maggioranza della comunità che dice vabbè a me non interessa partecipare a queste elezioni. Dall'altra magari ci dovrebbe essere anche una colpa delle istituzioni perché questi cittadini se non si sentono rappresentati, se non sentono un'amministrazione vicina, se non hanno mai visto un'amministrazione che gli tende una mano o che in qualche modo gli dimostra la disponibilità, possono anche dire ma perché io devo partecipare alle elezioni di un qualcosa che non sento mio, al quale non sento di appartenere perché anzi mi mettono sempre ai margini, mi fanno vedere in questa condizione. Visto che fortunatamente il clima è cambiato e c'è oggi la possibilità di anche mettere in piedi un passaggio importante perché l'integrazione passa anche per la partecipazione, quindi partecipare alle elezioni sarebbe l'ennesimo segnale di disponibilità, di voglia di integrarsi che la comunità darebbe alla città di Roma, sarebbe un segnale bellissimo per i cittadini romani se ci fosse una grande partecipazione, però per votare molto spesso alcuni poi se ne accorgono il giorno del voto, io vorrei votare ma se non si è iscritto prima non può esercitare questo diritto di voto, quindi il lavoro va fatto in questi mesi, noi abbiamo messo in piedi una campagna mirata, speriamo di poter mandare a casa di ogni cittadino comunitario residente a Roma una lettera nel quale si spiega questa procedura, nel frattempo noi abbiamo attivato una postazione mobile che può essere richiesta ovviamente creando dei momenti di aggregazione, così come c'è stato già avanzato da alcune persone che hanno delle situazioni di contatto, se noi diciamo quando va il camper lo sono disposti a raccogliere, a comunicare questa cosa alla loro comunità di riferimento, magari i cittadini che hanno i rapporti, noi andiamo con dipendenti dell'amministrazione comunale, in particolare dell'ufficio elettorale e gli facciamo fare in diretta l'iscrizione alle liste elettorali. Altrimenti? Lo possono fare online, quindi andando sul sito del Comune di Roma possono andare online, quindi chi lo vuole fare online e ha uno scanner può compilare il formato e scansionare il proprio documento, allegarlo ovviamente la domanda e in automatico si scrive. Possono scaricarsi il modulo in cartaceo, quindi se uno non ha lo scanner, stampa il modulo, lo compila e lo può consegnare personalmente, per fax o raccomandata con ricevuto di ritorno. Può regarsi personalmente all'ufficio elettorale centrale di Roma Capitale che si trova a Piazza Guglielmo Marconi, all'Euro, dove sta l'Obelisco per capirci, lì c'è l'ufficio elettorale. Può andare fisicamente a farlo all'ufficio elettorale, dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 13 e il martedì e il giovedì di pomeriggio, poi semmai vi diamo una scheda con tutti gli orari che se voi nel corso di trasmissione volete anche riproporla, ripeterla. Io approfitto del momento, magari diamo il riferimento dell'ufficio Europa, quindi qualsiasi informazione la posso chiedere all'ufficio Europa, 06 67 10 6166, 06 67 10 6166, chiamando l'ufficio Europa dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13, c'è una persona che può rispondergli e loro possono porre qualsiasi quesito in merito all'iscrizione e loro sono tranquillamente in condizione di dare una risposta alle persone che vogliono partecipare. L'importante è far passare il messaggio in una comunità, che devono iscriversi, poi a me non interessa per chi votano, questa è una campagna che viene fatta per dire ai cittadini romeni avete un diritto importante, non ce l'hanno tutti, perché è un diritto, non è un privilegio, però rispetto ad altri è un qualcosa di più, se ne devono avvalere, devono partecipare, devono votare e devono poter decidere a chi vogliono essere rappresentati liberamente, tranquillamente, poi tra l'altro nei prossimi giorni parteciperanno anche alle elezioni nazionali, però ho capito che molte persone hanno più interesse a partecipare alle elezioni locali, cioè dove vivono, che non alle elezioni in Romania. E questo è sbagliato. È sbagliato perché rompere questo legame non è positivo, non è positivo e non fa bene, quindi io invito a partecipare ad entrambe le competizioni, quindi ad andare a votare per l'elezione in Romania perché è giusto che chi è qui decida anche che cosa accade in Romania, lo facciamo noi per esempio anche con gli italiani all'estero, gli italiani all'estero votano i loro rappresentanti anche nel Parlamento italiano, in modo tale che ci sia sempre una rappresentanza degli italiani all'estero insieme al nostro Parlamento. Il modello romeno è grossomodo sulla falsa riga di quello italiano, quindi mi sento di invitare la comunità romena a votare per le elezioni in Romania e al tempo stesso di votare per le amministrative qui a Roma dove possono decidere nei municipi e al comune da chi essere rappresentati, però non devono ricordarsi la domenica in cui si vota perché magari poi vedono tutto il fermento, la campagna elettorale di uno si vota vorrei votare. Quel momento è tardi, cioè l'iscrizione si può fare fino a 40 giorni prima dal giorno del voto, quindi presumibilmente entro fine gennaio, se le scadenze elettorali indicate sono quelle di marzo, quindi entro fine gennaio chi vuole deve iscriversi. A proposito delle prossime elezioni, quindi questo mandato sta praticamente agli sgoccioli, lei si ricandida? Io mi ricandirò sicuramente. Come? Mi ricandido come consigliere comunale, quindi l'assemblea capitolina, poi cambia anche il nome, quando vedete scritto Roma Capitale non vi preoccupate, è il comune di Roma che ha cambiato in virtù di una legge nazionale, ha cambiato nome, quindi oggi abbiamo uno stato stesso, siamo Roma Capitale. Io mi ricandido come consigliere di Roma Capitale con la speranza di poter proseguire questo lavoro fatto, perché ci credo, ci ho investito e sarebbe un peccato disperderlo solamente per una scadenza elettorale. L'impegno è che continuo comunque a occuparmi, perché ormai si è stabilito un rapporto talmente intenso con molte persone della comunità, che quindi a prescindere dall'incarico politico è un rapporto che rimarrà sicuramente. Che cosa pensa che ci sia ancora da fare come priorità per quanto riguarda la nostra comunità? Allora, quello che potremmo fare e che vorremmo fare, ovviamente non nei prossimi tre mesi, perché è un lavoro molto importante, è creare un albo professionale delle persone della comunità che lavorano, quindi anche lì, ennesimo passaggio che può aiutare ad abbattere le diffidenze, avere un elenco delle badanti che viene in qualche modo anche, non dico certificato, ma comunque sottoscritto dall'amministrazione comunale, quindi avere un elenco di badanti al Comune di Roma, che noi abbiamo la possibilità magari di chiedere le differenze, di capire se sono persone che lavorano bene e magari appunto promuoverle anche come Roma Capitale, quindi se una persona anziana poi cerca una badante invece di citofonare alla vicina di casa o di chiedere magari al negoziante sotto casa, chiama Roma Capitale e gli dice o sono una persona anziana, ho 80 anni, ho queste esigenze, avete voi una persona di riferimento? Se noi avessimo un elenco di persone certificate e quindi in questo caso garantite, noi potremmo indicare a questa persona una persona di riferimento e questo potrebbe anche aiutare le persone a trovare lavoro, la stessa cosa la potremmo fare per quanto riguarda il comparto edile, parlo di situazioni dove ovviamente la comunità lavora molto, c'è un'alta percentuale di lavoratori. Anche per stroncare, ci stavamo provando purtroppo non ci è riuscito, questa è un mia colpa, quel fenomeno delle persone che ogni mattina vanno davanti ai cantieri e attendono per un errore che passi il datore di lavoro di turno e che magari ha in nero e a prezzi fuori da qualsiasi logica di qualsiasi contratto di lavoro, prendono queste persone e le portano a lavorare la giornata intera. Poi dopo ci accorgiamo di queste persone quando succede un dramma sui cantieri e scopriamo che quello era un operaio a nero che era stato preso poveraccio alla giornata, che avendo bisogno di lavorare giustamente non ha detto di no e questo è un sistema che andrebbe stroncato, perché poi se no diciamo che l'operaio a romeno è ma il lavora è nero, ma se l'operaio a romeno è nero l'ha preso il datore di lavoro italiano, come parliamo prima, è un concorso di colpa. Allora, noi abbiamo proposto alle imprese, alle associazioni datoriali di lavoro, quindi anche a Confindustria, a un'industria, cioè poi è diventata un'industria, la Camera di Commercio, la possibilità, se avranno, di mettere a disposizione dei soldi per fare dei corsi di formazione, quindi di apprendistato, con quelle persone che stanno davanti ai cantieri, dandogli poi una prospettiva di inserimento nel mondo del lavoro, perché se abbiamo capito che gli operai vi servono, abbiamo capito che l'operaio vi serve, perché ogni mattina l'andate a cercare, ma è meglio avere un operaio specializzato, messo in regola, che possa avere poi un rapporto di continuità e quindi anche di fiducia con l'azienda, ogni mattina è più comodo andarsi a cercare l'operaio di turno, che poi magari non è anche garantita la professionalità, perché non è che quelli giustamente davanti al cantiere la mattina ti possono, ti dicono sì che stanno a fare gli operai, ma poi con quale sicurezza, con quale specializzazione? Nessun tipo di tutela. Non c'è tutela su nessuna parte, non c'è tutela per il lavoratore, non c'è tutela neanche per chi ti chiede il lavoro, che poi dopo magari esce fuori e diciamo mi ha fatto un lavoro fatto male, ma tu a quel poveraccio non è che gli hai chiesto, gli hai chiesto solamente se era disposta a lavorare, non gli hai detto che esperienza aveva di lavoro, quindi anche formarli significa anche elevare la qualità del servizio, abbattere anche dei sucrusi che vengono fatti in questi termini, eliminare l'illegalità, ogni datore di lavoro che assume un cittadino significa tasse che vengono pagate, contributi che vengono versati, noi dovremmo anche cominciare a capire in questo paese il problema che, anzi, soprattutto agli italiani, cioè che più gli italiani pagano le tasse e di conseguenza anche chi sta in Italia paga le tasse e magari meno opposizione fiscale noi avremmo, perché se tutti quanti contribuissero al gettito fiscale di questo paese magari le tasse sarebbero più basse, ecco cominciamo a farlo anche in queste situazioni, perché alimentare il lavoro in nero senza intervenire significa alimentare l'evasione e significa che chi invece paga le tasse ne paga di più perché c'è chi fate. Allora noi speriamo nei prossimi mesi, ecco è un progetto in cui dobbiamo lavorarci in maniera seria, rimettendo in piedi oggi la regione purtroppo anche in una situazione di pagazzo, perché la Presidente c'è, ma è dimissionaria, quindi non possono prendere i provvedimenti, anche quella regione razza che fa dei corsi di formazione, mettendo dentro le grandi aziende, cioè le grandi associazioni di categoria, avviare dei corsi di formazione per l'inserimento poi successivo di operare soprattutto nel settore edile in nazionalità romena. Il 99,9% sono nazionalità romena, quindi lo diciamo con certezza senza soffrire nessuno che dice ma ci stanno anche operare i marocchini. Sappiamo che la stragrande maggioranza del settore edile è fatto sia in termini datori di lavoro anche, perché ci sono se non sbaglio 475 imprese che hanno aperto la partita IVA, cioè in continua crescita di cittadini di nazionalità romena, quindi c'è anche da parte di chi ha iniziato a fare l'operaio magari 10 o 15 anni fa in Italia a Roma, oggi sono dei piccoli datori di lavoro, sono dei piccoli imprenditori e che essendo iscritti alla Camera di Commercio significa che pagano le tasse, che contribuiscono alla vita di questa città. Allora prima lo capiamo e prima magari evitiamo quei titoli sui giornali che etichettano la comunità in un certo modo, quindi insomma c'è molto da fare, però io sono ottimista in questo perché come tutte le cose bisogna avere costanza, bisogna fare in modo che non sia delle iniziative spot, cioè perché è facile comparire una volta, dire una cosa e poi sparire o poi riprendere l'argomento quando i giornali parlano di altri fatti poco carini, questo è un brutto vizio non solamente italiano ma in tutto il mondo. La prostituzione quando se ne parla, quando purtroppo viene uccisa la prostituta romena a talenti, allora ha il dramma della prostituzione. Io l'ho detto, andando in una trasmissione televisiva, che dopo una settimana non si sarebbe più parlato di quella vicenda e a distanza di un mese, spito chiunque a dire che si sta parlando con concretezza del problema della prostituzione. No, è morta una ragazza, non se ne parla più, aspettiamo magari forse qualche ora o magari qualche mese, quando accadrà nuovamente un fatto bruttuoso o delinquenziale, tutti i medi e tutti i giornali non andranno a parlare del problema. Nel frattempo che è stato fatto? Poco o nulla, allora bisogna tutti i giorni, tutti, costantemente lavorare per risolvere questi problemi in modo tale che un domani non si debba aspettare un fatto grave per poterne parlare. Bene, onorevole, la ringraziamo per le cose dette qui da noi e le auguriamo in bocca al lupo. Grazie mille, in bocca al lupo anche a voi. Grazie.